Ma dovete riprenderveli, capito? Senti, noi eravamo d'accordo per tutto quello che c'era dentro la vetrinetta. Dentro la vetrinetta, fuori la vetrinetta, non me ne frega niente. Dovete riprendere quei fucili, perché se non lo fate... Sì, Battista, che ci succede? Avete sentito parlare di Harry Lonsdale? Altrimenti noto come Harry ti faccia pezzi con l'accetta? Bene, si tratta di lui. Vedete, è proprio come nei film di James Bond. Quando balli col diavolo, devi aspettarti che la musica cambi. Capito che voglio dire? Insomma, trovateli, torturateli e ammazzateli. E riportatemi quello che mi appartiene. Perché se non lo fate, la vostra famiglia avrà degli enormi problemi. Ma chi era? Era l'abominevole Harry Laccetta. Gesù, Giuseppe e Maria...